Ciao, mi chiamo Di Frischiadino, sono di Reggio Emilia, ho 49 anni. Sono di origini abruzzese, ho un passato da allevatore amatoriale di boxer, dove ho ottenuto anche dei risultati abbastanza importanti a livello nazionale. Nel 2005 ho smesso perché non ho più creduto in quel tipo di cinofilia, non mi appassionava più. Ho sempre avuto cani da pastore per difendere proprietà, attività, in particolare abruzzesi mare in mano. Ho conosciuto il signore Ezio in quanto ho avuto bisogno di due cani, direi veri, da guardia per proteggere l'azienda, la mia azienda. Direi che al momento sono totalmente soddisfatto. Ho scaricato il videocorso sui cani antilupo, direi che è stato estremamente interessante. Per cui io lo posso consigliare anche a chi pensa di sapere molto, assicuro che c'è ancora molto da imparare e da scoprire. Il primo settembre chiaramente sarò a fare dal pago per lo stage. Io quello che posso dire è che è interessante e veramente costruttivo. È una cinofilia naturale che appassiona. I risultati li vedo con i miei occhi, con questi due soggetti che mi ha dato il signore Ezio. Buona giornata a tutti.